Sede regionale della FNA Abruzzo, incontro per annunciare due importanti momenti. Il primo, domani ci sarà una riunione organizzativa con tutti gli operatori della provincia di Teramo per annunciare il nuovo programma concordato con la sede centrale che prevede lo spostamento della sede provinciale dell'EPAS da Via Franchi a Via Lebovio per consentire una maggiore fruibilità alle persone che vengono da fuori e con il pullman e anche perché questa sede sta diventando troppo piccola per tutti i servizi che stiamo offrendo alla collettività. Quindi si è reso necessario questa riorganizzazione degli uffici con lo spostamento della sede provinciale da Via Franchi a Via Lebovio 27, mentre a Via Franchi verrà istituita la sede regionale dell'EPAS. Quindi abbiamo a completare un progetto importante che è iniziato quattro anni fa. Dopo di questo ci sarà l'illustrazione di un progetto importante che la Udicon, Unione per la Difesa dei Consumatori, che fa parte della grande famiglia della FNA, Unione per la Difesa dei Consumatori, anche su nostre sollecitazioni, ha avuto l'approvazione di un progetto importantissimo per i territori colpiti dal terremoto del 2016-2017, un progetto che prevede l'assunzione di 47 giovani per il servizio civile universale. Quindi tutti i giovani che volessero partecipare al bando, il cui bando scade il 28 settembre, debbono rivolgersi alle nostre sedi dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria per ricevere le opportune informazioni. Ribadisco, servizio civile universale, tutti i giovani da 18 fino a 28 anni non debbono aver compiuto il 29esimo anno di età, possono partecipare, ma per tutte le informazioni la sede di via Francesco Franchi numero 25 sarà sempre aperta in questi giorni per consentire a tutti quelli che volessero avere spiegazioni e partecipare al bando di fare la relativa domanda.